Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sull'Afipili per lavori due chilometri di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra, segna in direzione Firenze e rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Per traffico intenso in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci spostiamo sulla A11 dove ci sono code a tratti, sempre per traffico intenso tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via Ridolfi, restringimenti di carreggiata tra Viale Strozzi e Piazza Indipendenza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Grazie a tutti